cari amici benvenuti ben ritrovati una nuova puntata di podcast il nostro consueto spazio dedicato agli approfondimenti con temi e personaggi della nostra regione e non soltanto quest'oggi torna puntuale l'appuntamento con l'Accademia di Medicina di Torino come sapete stiamo seguendo la stagione, gli appuntamenti, le sedute scientifiche in corso durante appunto questa quest'anno 2021-2022 sono tanti gli appuntamenti che abbiamo seguito adesso vi segnaliamo il prossimo il 10 maggio alle 21 sia in presenza che a distanza nella sede dell'Accademia di Medicina di Torino in via Po 18 vedo già collegati con noi ringrazio davvero per essere intervenuti e aver accettato il nostro invito i relatori della prossima seduta scientifica che fra poco vi presento ricordo che il titolo di questa seduta è novità in emostase e trombosi le condizioni protrombotiche rivisitate nel 2022 quindi i relatori saranno gli ospiti che abbiamo collegati con noi do il benvenuto alla dottoressa Piera Sivera che è dirigente medico del Dipartimento Strutturale Medico di Ematologie e Terapie Cellulari dell'ospedale Mauriziano grazie dottoressa per essere qui con noi e do il benvenuto al dottor Mario Bazzana responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di ematologie e malattie trombotiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino grazie davvero per essere qui con noi la trombosi sarà appunto l'argomento si parlerà soprattutto di fattori di rischio e io voglio solo ricordare che la trombosi costituisce la prima causa di morte nel mondo occidentale in Italia sono 600.000 le persone colpite e purtroppo 200.000 i decessi quindi sono dati molto importanti e quindi diventa molto importante ovviamente parlare di prevenzione di fattori di rischio proprio per permettere di effettuare una corretta prevenzione inizierei con lei dottor Bazzana spiegando intanto che cos'è, cosa si intende per trombosi grazie, grazie dottoressa, buongiorno a tutti intanto una piccola precisazione io sono ex direttore dell'ematologia del Giovanni Bosco attualmente collaboro con l'università ci tengo a dirlo perché c'è un altro direttore attualmente ci ho premesso come ha anticipato lei è una problematica comune e frequente nella popolazione generale quella della trombosi e per i non medici spieghiamo che si tratta di una occlusione di un vaso sia esso venoso o arterioso un grumo di sangue, come dicono i miei pazienti che va a ostruire il vaso noi oggi parleremo soprattutto però della malattia tromboembolica venosa quindi il sistema venoso che è una cosa un po' diversa rispetto a quella arterioso la malattia tromboembolica venosa fondamentalmente è data da diverse entità patologiche la trombosi venosa profonda che è l'occlusione di un vaso del circolo venoso profondo e la temutissima complicanza che è l'embolia polmonare ancora oggi frequentemente purtroppo mortale se non diagnosticata e trattata in modo tempestivo per fortuna questa complicanza è presente all'incirca nel 30% delle trombosi venose profonde quindi una prevalenza minore abbiamo poi anche altri tipi di patologia occlusiva venosa che sono le trombosi in sede atipiche perché abbiamo trombosi venose anche in sede cerebrale o in sede addominale oltre alle tromboflebiti superficiali fenomeno molto comune soprattutto nel sesso femminile soprattutto in chi ha varicosità alle gambe per fortuna meno grave rispetto alla trombosi venosa profonda dottore colpisce in modo trasversale un po' a tutta l'esperienza assolutamente par condicio fra i sessi anche se il picco di incidenza è fra i 25 e i 40 anni nel sesso femminile e ci mettiamo qua come complicanza come fattore di rischio in pillola e in gravidanza mentre il picco di incidenza nel sesso maschile è più o meno fra i 50 e i 75 anni un'ultima cosa importante da ricordare è che si ricade facilmente di questa forma quindi anche se le cure sono più o meno appropriate più o meno prolungate si può ricadere questo è il problema delle cosiddette recidive che possono andare da un minimo del 5 a un massimo del 30-40% a 5 anni dal primo evento questo è un fenomeno così importante che qualcuno dice che la malattia tromboembolica venosa è una malattia cronica perché si ricade quindi molte volte è un discorso che non si chiude con il primo episodio e assieme a questo voglio appunto ricordare che qua si litigano un po' due prospettive perché molti pazienti dicono vabbè ho avuto un evento tromboembolico diamo un anticoagulante ne lo prendo piuttosto per tutta la vita così almeno mi proteggo teniamo presente che la terapia anticoagulante qualsiasi essa sia ha un'incidenza di complicanze emorragiche maggiori pari a due ogni cento pazienti l'anno quindi è una terapia non priva di effetti collaterali quindi dottore diventa quanto mai importante conoscere dicevamo i fattori di rischio che sono sia genetici che acquisiti che permettono appunto di effettuare una corretta prevenzione e fare terapie farmacologiche e ridurre appunto le recidive di cui ci parlava poc'anzia allora io parlerei adesso di fattori di rischio genetici che sarà proprio l'argomento sul quale si concentrerà la dottoressa Sivera ecco riusciamo quindi a sinteticamente illustrare quali sono nel modo più semplice possibile per i nostri telespettatori la predisposizione congenita io voglio tranquillizzare chi ci ascolta perché la predisposizione trombosi in realtà è rara e a volte non è sufficiente cioè chi ha la predisposizione congenita non è detto che in assenza di altri fattori di rischio che sono noti e che si possono controllare abbia una trombosi perché quello che io vedo spesso è che le persone sono molto spaventate dagli esami genetici dal referto degli esami genetici che non sempre vengono chiesti in indicazione cioè se ne fa un po' un abuso quindi è molto importante anche per chi ha una predisposizione genetica la storia della famiglia cioè chi sviluppa una trombosi sono normalmente pazienti giovani che hanno una familiarità per trombosi venosa ad esordio giovanile quindi ben capite come si ha ci si riduca anche come rischio e poi ci sono dei fattori ambientali che si possono controllare e che possono aumentare il rischio che sono ad esempio l'obesità il diabete le dislipidemie chiaramente poi il rischio aumenta anche con l'età e con lo sviluppo di patologie tumorali oppure nei giovani l'assunzione nelle donne giovani di estroprogestinici e bisogna anche controllare questo rischio durante la gravidanza cioè bisogna parlarne e cercare di evitare che questa donna abbia una complicanza trombotica per cui l'indicazione a fare gli esami genetici non c'è in tutti i pazienti che hanno una trombosi c'è nei pazienti giovani che hanno familiarità e che sviluppano una trombosi senza avere altri fattori di rischio a quel punto in base a quello che si trova si decide per quanto tempo fare la terapia anticoagulante come evitare altri eventi e come comportarsi in caso di gravidanza e poi si discute con le donne giovani anche sull'opportunità di prendere la terapia estroprogestinica o meno o di usare ad esempio il solo progestinico che non sempre è controindicato poi ci sono delle malattie ematologiche che possono aumentare di per sé senza avere una predisposizione congenita il rischio di avere una trombosi ma capisce che parliamo già di casi particolari che sono le malattie mieloproliferative croniche cioè sto parlando di pazienti che hanno tante piastrine o che hanno il sangue più spesso o pazienti ma generalmente anziani che hanno una malattia che si chiama mieloma multiplo in cui il numero di immunoglobuline è aumentato quindi aumenta la viscosità del sangue e rischiano di avere una trombosi quindi le condizioni sono tante a seconda dell'età ma nel giovane non è poi così diciamo elevata la possibilità di avere una trombosi dipende molto dai fattori di rischio tenga presente che nella popolazione caucasica sana l'incidenza delle forme più frequenti di trombofilia congenita può andare dal 3 al 5 per cento poi ci sono forme più rare come i difetti degli anticoagulanti naturali l'antitrombina terza la proteina C la proteina S che hanno un'incidenza molto più bassa c'è di circa lo 0,5 per cento la ricerca della trombofilia congenita va fatta in pazienti particolari cioè non si deve estendere a tutti come viene fatto spesso anche perché spesso l'interpretazione non è corretta di questi esami diventano quanto mai importanti dottor Bazzan i fattori di rischio anche in questo in quest'ambito anche quando si è geneticamente predisposti quindi assolutamente dottor Bazzan quali sono i principali fattori di rischio ma quelli leggiamo leggiamo tabelle con decine se non centinaia di possibili fattori di rischio elencati a me piace elencarli suddividendoli in quattro differenti categorie che sono quelli di tipo fisiologico cioè che non contemplano dietro di loro una patologia vera e propria come ad esempio la gravidanza il puerperio Piero ha già detto il sovrappeso all'età i traumi i lunghi viaggi la famosa economy class syndrome c'è un viaggio soprattutto ma non solo in aereo prolungato senza mobilizzazione favorisce il tromboembolismo venoso correlazione con inquinamento recentemente abbiamo trovato favorire una trombosi venosa profonda una familiarità per trombosi anche senza trombofilia genetica si è visto che la familiarità di per sé raddoppia il rischio di tromboembolismo venoso il lockdown recentissimamente abbiamo visto che il lockdown ridotta mobilità lavorare al computer favorisce il tromboembolismo venoso questo è il capitolo situazioni fisiologiche o parafisiologiche poi ci sono delle istituzioni di tipo anatomico ad esempio la sindrome di May-Turner molte patologie internistiche lo stesso fatto di essere ricoverati in ospedale per una patologia medica ma soprattutto per una patologia chirurgica le malattie autoimmuni il lupus gli anticorpi antifossfolipidi per città degli esempi le malattie neoplastiche che purtroppo spessissimo si accompagnano a questa ulteriore complicazione di un quadro già complesso di per sé già pericoloso di per sé e se vogliamo parlare di altre patologie beh accenno anche qua al covid-19 se vissero che pazienti soprattutto con le forme più gravi con le forme da rianimazione per intenderci frequentemente hanno complicanze trombemboliche mortali soprattutto la trombosi pormonale non peraltro forse l'unico farmaco che ha realmente ridotto la mortalità nel contesto del covid-19 è un anticoagulante lei ha parlato di farmaci che possono provocare costituire un fattore di rischio sui vaccini si è tanto parlato sulla correlazione vaccino soprattutto AstraZeneca e trombosi lei cosa può dire a riguardo ma oggi abbiamo dei dati su popolazioni vastissime solo in Europa più di 2 miliardi di dosi di vaccino anti SARS-2 covid-19 quindi è una platea altissima e si può dire con buona sicurezza che non vi è una chiara correlazione fra vaccino e trombosi per onestà nei primi tempi è stato visto qualche rarissimo caso di trombosi con vaccini a tecnologia non a mRNA quindi lei ha citato si parlava di Johnson Johnson di AstraZeneca peraltro che hanno continuato a utilizzare in Inghilterra senza particolari complicanze ad oggi l'incidenza di trombosi con i vaccini anti covid non è dato a essere stimata come rispetto ai pazienti che non si vaccinano quindi direi massima tranquillità se il medico curante o lo specialista dà indicazione a fare il percorso vaccinale farlo con serenità che questa non è una complicanza se il paziente è già in terapia anticoagulante può fare tranquillamente il vaccino perché non avrà complicanze anzi avrà una protezione in più dalla terapia anticoagulante Io ringrazio davvero il dottor Mario Bazzan referente trombosi ed emostasi CMID all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino e ringrazio la dottoressa Piera Sivera dirigente medico del dipartimento strutturale medico di ematologia e terapie cellulari dell'ospedale Mauriziano di Torino grazie davvero per essere stati con noi grazie ai nostri telespettatori per averci seguito fin qui l'appuntamento è domani con un nuovo approfondimento grazie a tutti arrivederci a presto 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 Grazie a tutti.